Perchè era nell'altra storia, allora mi spasso una scusa, abbiamo molte scuse, si intende. Perchè ho tirato, non sei più avviso, hai capito? Non sono pratico, allora io andrei ancora, non lo puoi rifare, vabbè, vabbè, vado eh, allora vado, non perchè, era lì prima, allora scusi, abbiamo pazienza. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Grazie a tutti.